A un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro il carico di cocaina sequestrato dagli agenti della mobile di Salerno nel porto di Civitavecchia. Nel tir sbarcato sulle coste laziali e proveniente da Barcellona, i poliziotti hanno scovato 25 chili di cocaina destinata alle piazze dello spaccio di Napoli e di Salerno. L'autista del mezzo pesante Pietro D'Agostino, 46 anni, di Pomigliano d'Arco, è stato arrestato. Nel corso di una conferenza stampa svoltasi in quest'ora sono stati illustrati i particolari dell'operazione condotta dagli agenti della squadra mobile e gli ordini del vicequestore Claudio De Salvo. Il sequestro di oggi fa seguito a quello del 9 dicembre, quando gli uomini di De Salvo, insieme ai colleghi della Polizia di Frontiera, sequestrarono 1.300 kg di hashish, sempre proveniente dallo stesso scalo spagnolo. Nel corso di quella operazione venne arrestato un autotrasportatore 31enne originario di Gragnano. Rinnoviamo la preoccupazione per un cartello criminale che dispone di fondi economici senza fine, ha detto il sostituto procuratore della DDA di Salerno Vincenzo, Montemurro, che ha sottolineato la grande attenzione che gli investigatori stanno riservando al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e soprattutto alla provenienza dei carichi di droga. Soddisfazione è stata espressa dal questore di Salerno, Antonio De Jesu. È un duro colpo inferto alla criminalità organizzata. Ha detto in conferenza stampa, la droga sequestrata avrebbe invaso le piazze del Salernitano. Intanto la sostanza stupefacente era conservata in un borsone ed i pacchi di cocaina erano stati abilmente avvolti in uno strato di senape per confondere l'olfatto dei cani antidroga. La prima scherzando e per approfittare del clima natalizio avevo detto che era il nostro modo di augurare il buon Natale anche alle organizzazioni criminali, privandole di un momento di grande rilievo di introito economico, oltre a cristallizzare e a riscontrare una serie di attività investigative tuttora in corso su questa fenomenologia e su questo specifico settore del traffico internazionale.